Musica Ma buongiorno signori e signori, benvenuti a bordo della Yaris Stiamo andando verso Peschina del Garda Perché oggi finalmente sono iniziate le ferie Allora sono partito da Bolzano E sono sulla Brandner a Modena Tutto va bene Ma si prospetta un po' di traffico Infatti hanno detto che tra Alavio e Affi C'è traffico rallentato Perciò vedremo il da farsi Nel frattempo vi saluto E ci vediamo più tardi Ciusfitti Bene Ecco il traffico rallentato Piano piano forse arriveremo a Affi Una volta arrivato a Affi c'era veramente tanta coda Comunque dai tutta sommata Sono arrivato a casa non era decente E' un'altra volta a affi c'era 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 E' un'altra volta a affi c'era